ciao ragazzi oggi ho deciso di farmi un make up molto semplice ma molto carino però come sapete io non sono tanto brava a truccarmi quindi seguirò un tutorial dal nuovo samsung che ha un display molto grande così che riuscirò a seguirlo alla perfezione ok questo qua è il mio make up come avevo detto super semplice per fortuna grazie al display del mio samsung che è grandissimo sono riuscita a seguire il tutorial alla perfezione fatemi sapere se vi piace e ovviamente io e Anthony ci facciamo mancare l'isola sempre insieme